Facciamo questa conferenza stampa a ranghi ridotti perché ad alcuni nostri collaboratori, quello più importante è quello che già sapete, quello che ha fatto più rumore, questo ci troviamo. Sono qui alla mia sinistra il Presidente, il Professore dell'Avvocato Carlo Tormina che tutti conoscete, c'è poi Vito Dalano che è il coordinatore della Regione Puglia in rappresentanza di tutti i coordinatori regionali e Luciano Zazza che è il coordinatore nazionale dei giovani. Devo dire l'idea qual è. Oggi noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per rappresentarvi qualcosa di nuovo e di difficile che abbiamo intenzione di far partire. Nuovo perché andiamo anche contro quelle che sono le classiche definizioni, definitelo voi cos'è, un partito, un'associazione, un gruppo di lavoro, un'idea, un centro studi, qualcosa però che abbia alla base una grandissima trasversalità. La trasversalità di mettere insieme non solo politica ma anche sociale, ideologica, culturale, mettere insieme persone che la pensano in maniera anche completamente diversa. Io stesso sono il primo che rispetto a Giuliano Castellino, voi lo sapete, la penso in maniera enormemente diversa, però dimostrare che quando c'è la volontà di confrontarsi, l'umiltà di confrontarsi, la volontà di creare qualcosa che possa essere utile a tutti e quindi la grande umiltà, le cose si possono fare. Difficile perché ci sono le etichette, perché ognuno di noi, soprattutto in questi ultimi anni, è stato definito ed etichettato e quindi è complicato superarlo. Partiamo da zero e dobbiamo vincere anche questa idea. Vi siete rimessi insieme, vi siete nuovamente accordati. Non è così, ognuno di noi ha una sua assoluta individualità, ognuno di noi pensa e ragiona con la propria testa, però ha una grande volontà di confronto e quindi non poniamo nulla a quello che possa accadere. Quando ci si ragiona insieme e si ragiona in maniera umile con la volontà di creare qualcosa, le problematiche vengono a cadere. La nostra vittoria sarà proprio dimostrare che tante persone che la pensano in maniera completamente diversa possono coesistere e fare qualcosa insieme. Che cosa sarà? Poi lo dirà il tempo. L'altra parte della vittoria sarà pure il fatto di vedere anche voi, anche coloro i quali oggi ci vedono diversi e ci soprannominano in base a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, cambiare idea. E lo faremo con un linguaggio educato, un linguaggio anche elegante, non polemico, scappando da quelli che sono i classici termini che fino ad oggi abbiamo utilizzato. Io non sarò il segretario politico, io sono un segretario di natura logistica e organizzativa, il mio rapporto sarà quello con le aziende, con i professionisti, con le altre realtà. Qui non ci stiamo schierando, noi ripeto siamo trasversali, da noi sono tutti benvenuti, è un porto sicuro per tutti coloro i quali vogliono creare qualcosa. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono anzitutto portato a manifestare tutte le mie rimostranze per quello che sta accadendo in questi minuti, perché non ho capito per quale ragione è stato ritenuto necessario, possibile, opportuno. Non vado a specificare perché non conosco nello specifico la situazione che si è verificata. Però abbiamo avuto modo di segnalare attraverso l'onorevole Gallo che ringrazio e che naturalmente voglio dire agito soltanto a fine di colleganza e di amicizia e mi dispiace magari che si sia trovato pure in qualche difficoltà, però mi pare di poter dire che la responsabilità non sia la nostra. A me sembra molto grave quello che sta succedendo. Sta succedendo che nel Tempio della Democrazia, cioè la Camera dei Deputati, dove quest'Aula, nella quale io tante volte sono venuto, anche quando ero in carica, sono entrati tutti e di più. Ricordo anche personaggi appartenenti alle vecchie Brigade Rosse e quant'altro. Tutti sono entrati in quest'Aula perché questo è l'emblema della libertà di manifestazione del pensiero. È l'emblema di una delle libertà fondamentali garantite dalla nostra Costituzione. Bene, io non so quanti parlamentari siano seduti su quegli scranni che non siano indagati, che non siano imputati, che non siano magari imputati di reati gravi e che però nessuno blocca al momento in cui entrano a Montecitorio. Giuliano Castellino, che non ha precedenti penali per sentenze passate in giudicato e che ha un procedimento penale a tutti noto, relativo alla questione della CGL, tanto per intenderci, è un cittadino imputato assistito ancora, per quello che mi risulta se la Costituzione è ancora in vigore, dal terzo coma dell'articolo 27 che appunto sancisce il principio della non colpevolezza. Quindi un cittadino assistito dal principio della non colpevolezza è un cittadino al quale è stato ritenuto che non fosse opportuno consentire l'accesso, quanto meno opportuno, l'accesso a questa conferenza stampa, della quale appunto avremmo voluto e vogliamo sinteticamente dire quali sono le cose che stiamo facendo. Però io non mi voglio nascondere e voglio dire che Giuliano Castellino, che anche ufficialmente ha reso dichiarazioni di totale e definitiva distanza da quelle che sono state le situazioni che spesso l'hanno portato agli onori della cronaca, mi riferisco a vecchie organizzazioni di partito delle quali è stato anche esponente, Giuliano Castellino ha anche alle autorità di questo Stato dichiarato di essere assolutamente lontano e definitivamente e sideralmente non più in sintonia con determinate situazioni del passato. Quindi un cittadino che sta sotto processo, che sta manifestando la volontà di essere consensiente con quello che accade ed è la vita istituzionale nel nostro Paese, qualcuno si dovrà forse fare una riflessione in più, non vogliamo assolutamente prendere posizioni anti-istituzionali, qualcuno però si dovrà fare un po' l'esame di coscienza per capire se questa decisione, questa soluzione che stiamo vivendo in questo momento e che non consente la presenza del capo politico del partito che sta nascendo, che è nella persona di Giuliano Castellino, che noi rivendichiamo perché sappiamo di cosa stiamo parlando, sappiamo quali sono le posizioni e le modalità attraverso le quali queste esperienze sono vissute da Giuliano Castellino, credo che veramente sia una cosa molto grave quella che sta accadendo. Detto questo e augurandoci che sia un'occasione perché in future situazioni si rifletta un po' più sul modo con il quale gestire queste importanti iniziative di carattere istituzionale, voglio dire due parole su quello che stiamo facendo. Stiamo fondando un partito, abbiamo fondato un partito che più che essere il partito del dissenso è il dissenso che si vuole fare partito. In questi anni ci sono state, io mi sono impegnato in queste battaglie per motivi soltanto ideali, senza alcuna implicazione di carattere economico, strutturale, professionale, da cittadino libero. Abbiamo visto come la vita costituzionale di questo Paese si sia andata man mano degradando, abbiamo vissuto tutti le esperienze della pandemia, abbiamo tutti visto che cosa è accaduto rispetto a determinati diritti fondamentali, come quelli di libertà di manifestazione del pensiero, come quelli di libertà di circolazione e quant'altro, abbiamo visto che cosa è successo con il diritto al lavoro, che piaccia o non piaccia, il Green Pass comunque ha determinato, per il quale ha determinato una grossa crisi. Queste e tante altre situazioni, la guerra, tutte situazioni che noi abbiamo fatto oggetto di riflessione come una pluralità di sintomi che dimostrano come la nostra Costituzione non venga tenuta nella dovuta considerazione e spesso venga violata. Quindi noi nasciamo non soltanto perché il dissenso diventi partito, ma nasciamo anche e all'insegna del rispetto integrale della Costituzione. Naturalmente questo non impedirà che ci siano delle cose che non vadano anche a livello costituzionale, come avviene nella dinamica parlamentare di sempre, ma dal punto di vista del faro della nostra attività è la Costituzione repubblicana. Noi abbiamo dei valori, non mi fermo naturalmente su queste cose che sono sempre molto noiose e non riescono ad attrarre ovviamente nessuno. Ma i nostri valori sono i sette punti famosi che sono famosi, che hanno tutti i partiti, però noi diciamo li decliniamo in maniera diversa, riteniamo di declinarli in maniera diversa alla luce delle esperienze di questi ultimi 30 mesi, 40 mesi e via dicendo. Pace, quindi non vogliamo armi all'Ucraina, non vogliamo sanzioni alla Russia, sovranità, siamo anti-Nato e anti-Unione Europea, questa Unione Europea, siamo per le libertà costituzionali che vorremmo che si faccia in modo che qualcuno garantisca, perché vedete, quando si consuma la libertà di manifestazione del pensiero, vediamo tante occasioni nelle quali non possiamo dire quello che pensiamo o non possiamo fare quello che possiamo fare secondo quelle che sono le indicazioni della Costituzione, ma una volta che siano violate, che succede? Succede niente. Noi pensiamo che invece sia necessario istituire un'organizzazione, un organismo che garantisca al cittadino la persistenza delle libertà costituzionali e l'osservanza delle libertà costituzionali. Per quanto riguarda il lavoro, che è il quarto punto del nostro programma, noi diciamo o lavoro o chi non può lavorare, reddito di cittadinanza. Le altre alternative non ci sono, siamo assolutamente in questa direzione. Per quello che riguarda la giustizia, riteniamo che ci sia tutto da fare. La riforma che è stata adesso approvata, ha fatto bene questo Parlamento a sospenderla fino al 30 di dicembre, poi vediamo che cosa sarà fatto. Ma per quello che riguarda la giustizia, noi ci batteremo per due cose. Primo, per l'abolizione, per quello che è possibile, con esclusione di quello che riguarda manifestazioni di violenza personale o sociale, mi riferisco a tutte le organizzazioni criminali, per quello che riguarda questo settore, noi siamo dell'idea che il carcere debba rimanere, ma per il resto noi ci batteremo per l'eliminazione del carcere. Abbiamo preparato un progetto che poi cercheremo di fare entrare nella logica costituzionale, nel senso appunto di sostituire tutte le forme attuali di detenzione carceraria con detenzione domiciliare attraverso alcune modulazioni all'interno dello stesso provvedimento. Quindi no al carcere e no ad una giustizia amministrata sempre all'insegna della logica statale. La magistratura dello Stato ci deve essere e deve rimanere, ma le articolazioni, molte delle articolazioni che presiedono all'amministrazione della giustizia debbono essere in qualche modo oggetto di diretta gestione da parte delle rappresentanze popolari. Ci batteremo perché, e qui la modificazione costituzionale si imporrà, perché le giurie popolari prendano per quanto è possibile il posto della magistratura di Stato, la quale resta sempre una magistratura che ha una finalità precisa, ha un indirizzo che proviene dalla sua appartenenza allo Stato, noi pensiamo che i cittadini debbano cominciare ad essere gestori della giustizia anche perché in possesso di molto più buon senso di quanto non si veda nelle aule giudiziarie. Per quanto riguarda gli altri due aspetti, la cultura e il popolo, noi ci punteremo sulla totale gratuità delle scuole e delle università e sulla interdisciplinarità e l'internazionalità della ricerca nelle università italiane. Questi sono alcuni dei punti sui quali faremo convergere la nostra attenzione. Domando se queste siano situazioni richieste, programmi che abbiano qualcosa di criticabile dal punto di vista della compatibilità con il tessuto costituzionale. La parola d'ordine e chiudo di questo partito che nasce è la non violenza. Italia libera, partito non violento e antiglobalista. Grazie dottor Tormina, professore Tormina. Come vedete la pluralità delle idee fa parte di questo partito ed è la cosa più bella di questo gruppo di lavoro, come ho detto prima, di questa idea di lavoro di questa associazione. E adesso per ultimo do la parola a Vito Talano che è segretario della Regione Puglia per quanto riguarda il coordinamento di Italia Libera. Io posso dire che posso iniziare a dire che ho avuto il piacere di riconoscere adesso il professor Tormina e non conosco ancora Giuliano Stellino. Però sono d'accordo su buona parte delle cose dette. Ecco perché ho accettato questo invito e credo che l'assenso e il dissenso, come bene diceva il professore, è una forma pura di democrazia. Chi dissente non vuol dire che è un pericolo, anzi, proprio perché dissente può essere un valore aggiunto per vedere perché dissente e andare avanti. Quindi la non violenza. Benissimo. Rivedere alcune forme di organizzazione sociale, ad esempio penso al sindacato. Oggi il sindacato è un organismo importantissimo, lo conosco bene perché faccio anche sindacato. E credo che il sindacato, per meglio tutelare il lavoratore a qualsiasi livello, di qualsiasi tipo di lavoro, deve conoscere bene quello che succede, come sta cambiando la nostra società. E quindi essere formati, noi ci dobbiamo formare, dobbiamo avere un obbligo formativo. Chi vuol chi vuole intraprendere l'attività sindacale, poi vi dirò perché sono entrato subito a gamba testa sul sindacale. Deve essere formato, deve sapere come tutelare il giornalista anziché il tassista. Io venendo qui ho parlato con un tassista che diceva però noi con tutto questo stress non abbiamo nulla che ci affavore attraverso l'infortunio, l'Inet, come ad esempio, hanno fatto degli esempi. Quindi carenza. Questo crea stress. Bene, si è parlato di pace, di non violenza. Io ho accettato perché credo che abbiamo vissuto due anni di... ho concordato con tutte le decisioni prese. L'unica cosa a cui io non sono stato molto a favore è stato di bloccare, di sospendere quei lavoratori che non volevano, per motivi di paure, di fobie, motivi loro, entrare a far parte di quel nucleo di persone che sono per forza vaccinale. Io ho scritto a tutti gli ordini professionali, a tutti, dicendo guardate che noi possiamo benissimo mettere queste persone in sicurezza, cioè farle andare al lavoro, quindi abbiamo bisogno dei medici, abbiamo bisogno degli infermieri. Perché li sospendiamo? Io ho proposto formazione, dispositivi di protezione individuali, quelli sulla sicurezza, e igiene ambientale. Dopodiché non abbiamo bisogno di sospendere qualcuno. Non è un rischio, né per sé né per gli altri. Perché farlo? Non l'ho ancora capita. E poi chiudo subito dicendo che il mio impegno sarà che si concretizzerà questa cosa, perché non mi aspettavo tutto questo movimento fuori, pure io sono rimasto un po'... Fino all'ultimo non volevo nemmeno far teciparvi, però poi il professor Tormina, il professor Bacco, che io stimo molto, mi hanno rassicurato della visione bonaria e costituzionale del nostro movimento. L'ho preso coraggio pensando anche a quello che potrei fare io come contributo, il mio piccolo contributo, umilissimo contributo. Vi faccio questo esempio e poi chiudo veramente. Sentiamo spesso parlare di grosse aziende, di lavoratori, che possono chiudere perché vogliono delocalizzare o perché per un motivo X. Grosse aziende, per esempio, prendiamo una casa, una famosa, la Bridgestone, poi si è risolta, ho un'altra, quella delle lavatrici, aiutami, come si chiama? La Whirlpool. Bene, perché non fare un provvedimento di legge? Io lo sto proponendo a livello sindacale, ma non vengo ascoltato, ecco perché oggi è qui. Questa gente che sta lì, che conosce, hanno il know-how e il background, cioè sanno come fare le lavatrici, hanno l'ingegneri, hanno tutti, perché stare lì e diventare, con la prospettiva di diventare disoccupati? Io direi, con un progetto di legge, caro Whirlpool o Bridgestone, come vuoi tu, te ne vuoi andare, vattene, lascia qui l'azienda con tutte le strutture, ti diamo quello che valgo, perché sono usate e sono molto usurate, prendiamo le persone che vi lavorano, facciamo la cooperativa, non quelle false, che scrivo 2000 e ti do 1000, la cooperativa, dividiamoli utili, e facciamo, non si chiamerà più Whirlpool, si chiamerà Pasquale Bacco, però la qualità è quella, la gente lo saprà, compreranno anche a meno costo, costerà la lavatrice o quello che è. E avremmo due elementi, avremmo salvato il lavoro, avremmo dimostrato di avere una dignità in Italia, e in più avremmo dato a questi lavoratori uniti in cooperative serie, non quelle che io ho conosciuto sinora, un potere d'acquisto maggiore, cioè potrebbe, c'è il dividendo, se noi togliamo il datore di lavoro che sta in Giappone, poi quell'altro che sta in Francia, in America, il dividendo diminuisce poi alla Whirlpool, se dividiamo lì in loco, le buste paghe sono più grosse, quindi maggiore potere d'acquisto, tutto qui, grazie. Allora, grazie anche a Vito Dallano, grazie al professor Taormina, grazie a tutti voi per averci ascoltato, e speriamo di rivederci presto, per fare delle cose tutte buone, tutti insieme. Ricordatevi questo giorno, ah, ci sono delle domande, sì. Ricordatevi questa giornata, perché saremo vincitori, eh. Non siamo opposizione, è giusto, no. Prego, prego. Volevo chiedere se avete avuto modo di sentire l'onorevole Gallo, e se ci sono... Qui. Ah, eccolo qua. E quindi, come reputate questa battuta d'arresto di Castellino, che è rimasto fuori? Questa battuta d'arresto per Castellino, che è rimasto fuori? Eh, lo so. Le nostre rimostanze le abbiamo rappresentate prima, abbiamo detto che Giuliano Castellino è una persona che è sottoposta ad un procedimento penale, e quindi è assistita dalla presunzione di non colpevolezza, vorrei sapere quanti deputati sono presenti qui in Parlamento per capire se siano tutti esenti da procedimenti penali in corso, credo che la presunzione di non colpevolezza valga anche per Castellino, per cui è assolutamente inspiegabile questa situazione che io non so se sia fonte di opportunità, se sia fonte di imposizione o quant'altro. Prendo soltanto atto che i carabinieri non hanno fatto passare Giuliano Castellino, mi pare che questa sia una cosa che in un Paese democratico non dovrebbe nemmeno essere pensata. Quindi noi ribadiamo la nostra volontà di costituire della Costituzione che in questo momento avviene del partito Italia Libera, che vuole rendere partito il dissenso. Il nostro capo politico è Giuliano Castellino, quindi confermiamo e ribadiamo, un Giuliano Castellino che ha rotto con tutto il passato che lo ha caratterizzato attraverso anche affermazioni in sede istituzionale rispetto alle quali ha voluto manifestare quello che è il suo progetto futuro, un progetto futuro che in molti abbiamo valutato, siccome è anzitutto imperniato sulla non violenza dell'azione politica e su principi che condividiamo, ecco qui che anche se sta fuori è come se fosse presente. Ma lo reputa una mancanza di democrazia oppure no? Secondo lei non è mancanza di democrazia? No, no, per questo stavo facendo. No, domanda, secondo lei a un cittadino... Per quale ragione non è entrato? Chi ha deciso di non farlo entrare? Io non lo so, io dico che non è intervenuto. Allora, come ha già chiarito il professore Dormina, ieri si è riflettuto su questa pressione e sull'opportunità di fare un ragionamento che evitasse, di cui io mi sono informato il professore Dormina, di cui io mi sono assunto la responsabilità, e cioè quello di evitare che la presenza di Castellino, per il quale anche per me vale la presunzione di innocenza, al di là poi di tutto quello che si può dire su ciò che abbiamo visto meno, però l'idea che questa presentazione avesse come unico argomento la presenza del dottor Castellino e la pressione esercitata sull'ufficio di presidenza mi ha anche, ripeto, dopo averne discusso col professore Dormina, mi ha determinato nel senso di non prevedere oggi questa sola presenza, tutte le altre erano state ammesse, di questo era stato informato anche lo stesso dottor Castellino, già credo da ieri sera. Ciò non toglie che dal suo punto di vista, che non è il mio, ma voglio dire... Quindi lei ha deciso di non farlo entrare? Certamente, ma lo ripeto, l'ho fatto non perché voglia con questo esprimere un giudizio morale, lungi da me, sulla persona, perché non mi piace fare politica esprimendo i giudizio morale sugli altri, anche perché... Sì, diciamo che in un primo momento ho sopravvalutato il pedigree, perché fosse stato, diciamo, indagato per mafia, camorra, andrangheta, probabilmente sarebbe entrato dalla porta principale e invece ha soltanto, diciamo, delitti comuni e quindi non ha un pedigree, per dirla con una battuta, un pedigree adatto per entrare qui. E così me ne assumo la piena responsabilità, tant'è che mi hanno detto da lui fuori che mi chiamava pentito, ma ripeto, tutte queste cose mi lasciano indifferente. Io, tanto la polemica dell'uno e dell'altro... Quindi si è pentito? No, affatto. Ho detto a un suo collega... E' tornato indietro allora. Ho detto a un suo collega che è stato un ravvedimento peroso per queste due ragioni. Uno, perché volevo ascoltare e volevo dare a loro che avevano da esprimere le loro opinioni, che è un programma politico, la possibilità di farlo dando spazio a quello che c'era da dire. E' il motivo per cui siamo qua, non per parlare del nero. Ce lo sapeva? Lo sapevo da ieri, certo. Ma su questo abbiamo riflettuto e preso una decisione. Non è che c'era, non c'era. Le liste si fanno, diciamo, anche sul momento. Secondo, avendo visto la pressione esercitata sull'ufficio di presidenza, non mi è sembrato opportuno che si creasse questa situazione, perché non c'era, diciamo, sicuramente da parte mia. Beh, insomma, sono stati dei gruppi parlamentari che sono intervenuti sul Presidente, sull'ufficio di presidenza della Camera, manifestando la loro opinione, eccetera, che evidentemente non hanno manifestato in altri casi. Io ho ricordato poco fa il caso di Tarek Aziz, condannato per crimini contro l'umanità, che è venuto qui, ha incontrato il gruppo dell'Olivo. Magari qualche volta ci sono stati altri, diciamo, personaggi della politica internazionale che hanno fatto innervosire gli israeliani, piuttosto che altri. Cioè, non è la prima volta che forse è la prima volta che si creano delle polemiche, forse è la prima volta che al di là poi della parte della vittima che gli spetta di diritto, Qualcuno le ha chiesto di non fare entrare Castellino? Devo dire che è stato molto germato il Presidente Fontana, non me lo ha chiesto, però mi ha fatto capire che questa cosa gli avrebbe creato qualche problema. Ma siccome noi no... Che le ha detto? Quello che avete già pubblicato, quello che è in notizia, la sintesi degli interventi che ci sono stati ieri pomeriggio da parte di vari gruppi parlamentari. Mi ha detto il gruppo parlamentare del PD ha posto questa questione, ne sta facendo, diciamo, una questione di eccetera eccetera. Io per un attimo ho avuto un dubbio, ho detto ma sulla possibilità di presentare un movimento o sulla presenza di una singola persona. Probabilmente è la presenza di questa persona che sta creando questa, diciamo, polemica, questa discussione così accesa. Io mi ho detto vedremo di valutare insieme all'interessato, insieme al professore Tormina, come comunque evitare che questo sia un argomento, diciamo, di discussione all'interno della conferenza dei capigruppo. Tutto qui. Quindi è d'accordo con l'opinione di Fontana? Se ha fatto questa scelta, dico. Sì, no, io vorrei... La domanda è... Certamente, sto intervenendo per questo, per assumermi la responsabilità di questo ravvedimento operoso, nel senso di, o pentimento, come dice lei, vengo da una regione dove pentito è quasi un'offesa, non lo è per me perché io sono antimafioso oltre che vaccinato tre volte, ci tengo a precisarlo, non so se la cosa mi dà fastidio, non so se la cosa mi dà a procurazione. Siccome l'avvocato D'Ordina faceva notare che questo è un attentato alla democrazia, è una limitazione di democrazia, chiedevo lei cosa ne pensassi. Certamente, penso che sia una limitazione di democrazia, l'ho detto, credo, tre, quattro volte in questo mio intervento, però, voglio dire, viste le circostanze, visto che ciò che si deve dire lo possono dire e lo hanno detto bene anche altri, e siccome ciò che si deve dire è più importante di chi lo deve dire e allora abbiamo o beh, dipende, abbiamo, beh, dipende dal suo punto di vista, è il mio punto di vista. Beh, la polemica scaturisce da un'ovvia posizione politica e con un passato di Castellino in cui lo ricordiamo col braccio teso, per cui sul passato di Castellino si è pronunciato il professore D'Orbina ed è, mi pare, una notiziona, ha detto che ha preso le distanze, questa sarebbe la notizia del giorno se fosse, diciamo, confermata dall'interessato. Due cose soltanto, primo, non è un attentato, l'attentato, l'attentato si ha quando ci si prova e non ci si riesce. Questa è una consumazione di violazione dei principi fondamentali della Costituzione e per questa ragione ci vuole proprio questa nostra formazione politica. Questo è il simbolo. Grazie. Comunque, volevo precisare ai signori giornalisti che questo gruppo di lavoro nasce proprio nella libertà e nel rispetto dei pensieri di tutti. Cioè, l'ho ripetuto prima, io, questo non è né il partito di Castellino, né il partito di Dormina, né il partito di Bacco, né il partito di Talano. Cioè, mi sembra una cosa superata. A noi non ce ne frega proprio niente di quello. Cioè, Castellino domani può fare tutte le decisioni che vuole, l'importante è che rispetti quello che penso. Io sono lontanissimo da Castellino, ho fatto quattro vaccini, sono completamente lontano da quel mondo. Quello che noi vogliamo mostrare con questa formazione è proprio che persone che la pensano in maniera diversa possono coesistere, anche perché hanno degli obiettivi completamente diversi. Cioè, non... Io mi riferivo semplicemente... Sì, ma mi sembra una polemica. Cioè, se vogliamo creare una polemica... Cioè, a noi personalmente abbiamo giustamente detto che secondo noi non è corretto, ma poi per il resto non ce ne frega niente. Cioè, qua ci siamo noi e parliamo in nome per conto. Cioè, non è che Castellino è indispensabile in questa struttura, così come non sono indispensabili io. Cioè, è giusto dire, secondo me, che vietare a una persona di parlare è comunque un errore. ma per il resto cioè, noi stiamo qua e Castellino deve stare fuori. Viva Dio, se ne farà una ragione. Cioè, voglio dire, voglio far capire qua Castellino è uno dei componenti del partito. Non è l'elemento fondamentale. Oggi non stiamo qui a ragionare. Tra l'altro, l'onorevole Galli è stato molto chiaro. Ha fatto una valutazione di opportunità sbagliata, giusta che sia, l'ha fatta. Cioè, noi stiamo dicendo cose diverse. Oggi Castellino c'è, oggi Bacco c'è, domani non ci sarà Castellino, non ci sarà Bacco. Cioè, la personalizzazione che state facendo è una, a parte il professore Dormina ci sarà sempre. Ma, quello che oggi, probabilmente Castellino non è d'accordo con quello che ho detto io. Cioè, questa è quello che noi vogliamo provare a fare. Poi, capisco che voi continuate a fare. L'ho detto prima, le etichette, lei non c'era, sono la cosa più difficile da vincere. Cioè, ma, questo è quello che noi vogliamo fare. Noi siamo qui, ve l'abbiamo detto subito. Guardate che abbiamo momenti pensanti, ognuno per conto proprio, ci sono dei punti di contatto e cercheremo di valorizzare quello. Se non ce la faremo, avremo fatto un buco nell'acqua, perché si può essere pure. Cioè, non so se è chiaro, però se parliamo tutto il pomeriggio a parlare di Castellino che sta fuori, se andasse a prendere un caffè Castellino, mica gli fa male. No, no, le sto dando, cioè, chi se ne frega, cioè, viva Dio. è comprendere per quale ragione un cittadino italiano non condannato ma Gallo ve l'ha detto. Non ha l'opportunità. Ma andatela a chiedere a Fontana, l'hai chiesto a Gallo, Gallo le ha dato una risposta, però ci siamo noi, c'è il dottor Dalano, c'è il professor Taormina, fuori ci sono, fuori sono rimaste anche altre persone che hanno deciso di farlo. fatti loro. Ma lei la risposta non se la sa dare. Questa è grave. Se la sa dare lei la risposta. Che un cittadino non condannato con sentenza definitiva e che viene a presentare un partito in difesa della Costituzione Repubblicana non sia stato fatto entrare nel tempio della democrazia, lei la domanda l'ha fatta. Ma la domanda è per questo che chiedo. Alla domanda non se la sa dare. Io chiedo la vostra risposta, siete voi che ha fatto un partito con lui. Ma siccome noi le abbiamo detto e lei ha ribadito la richiesta, mi fa venire il dubbio che lei non sia in grado di darsi una risposta e non ci posso credere. Legittimo. Però non è una questione personale appunto. Ci auguriamo che il suo servizio sia sui contenuti. Poi capisco che Castellino possa fare audience, ho visto fuori. Io quando vi ho visto arrivare... Prego? La libertà di espressione anche all'interno Ma infatti lui ha parlato. Ma noi non possiamo ma noi non stiamo... Noi prima di tutto rispettiamo anche la legge. Cioè voglio anche dirlo fin quando noi la possiamo discutere e combattere tra virgolette però esiste una legge esistono delle regole l'onorevole Gallo ci ha fatto entrare ha fatto una valutazione di opportunità comunque ci ha dato questa occasione e va a Dio si sarà andata a con mangiarsi un tramezzino Castellino cioè succede qualcosa l'ha già scaricato così No io non scarico nessuno io non scarico nessuno perché quello si perché non scarico nessuno dico soltanto che ognuno ha la propria idea non gli deve dare corda perché questo è in mala fede non le do corda dal punto di vista proprio è capo politico delle precondizioni Grazie a tutti